Amici di Voci dal Cilento, bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Questa puntata è quasi interamente dedicata al tema della sanità. Vi propongo infatti un'intervista al sindaco di Roccadaspide Gabriele Iuliano che nei giorni scorsi, insieme al primo cittadino di Capaccio Franco Alfieri e al vice sindaco Girolamo Auricchio, nelle vesti di presidente dell'Associazione per lo Sviluppo delle Valli del Cilento Interno, ha convocato un incontro con tutti gli amministratori della Valle del Calore, della zona degli Alburni e dell'Alento per discutere della necessità di potenziare l'ospedale di Roccadaspide. Abbiamo fatto questo incontro sulla sanità in generale. La drammaticità del momento che riguarda la nostra struttura ospedaliera è legata sostanzialmente a tutta una serie di decisioni e di scelte che sono state assunte in questi due anni lentamente da parte della direzione sanitaria che in maniera assolutamente inconcepibile ha di fatto concesso più e più trasferimenti al personale medico che era operante verso la nostra struttura e che ovviamente ha avuto come effetto conseguenziale una grande difficoltà di erogazione di prestazione in alcuni reparti che era una condizione che già esisteva, era precedente, preesisteva rispetto alla quale avevamo chiesto tutta una serie di interventi e su cui si stava incidendo da parte della direzione generale dell'Aslo per rimpinguarla e tuttavia anziché verificarsi questo processo di riadeguamento del personale e della dotazione organica si è invece determinato l'esatto opposto. Quindi questo è il primo punto centrale che ha determinato ovviamente una difficoltà forte su cui abbiamo chiesto questo incontro. Poi ci sono tutta una serie di altri aspetti collaterali ma questo credo sia il punto principale della questione rispetto alla quale cosa non possiamo più attendere che si continui con questo processo lento di depauperamento ma che si inverta la rotta e si vada verso il reclutamento di personale medico per consentire ai nostri reparti di funzionare come hanno sempre funzionato e di dare assistenza sanitaria e risposta sanitaria adeguata a tutta quest'area territoriale. E naturalmente vi aggiorneremo ancora sul destino dell'ospedale e sul tema della sanità in generale nella Valle del Calore. Ora spazio alle altre notizie in breve con la rubrica Accade anche questo. Tutto pronto per l'apertura del centro vaccinale di Aquara che sarà operativo nell'ex asilo. Lo rende noto l'amministrazione comunale retta da Antonio Marino spiegando che il risultato è stato ottenuto su impulso del dottore Vincenzo Patella, responsabile del Lab di Battipaglia e del referente dello SPOC di Roccadaspide Giuseppe De Matteis con i medici di base, l'unità amministrativa comunale e con la collaborazione della protezione civile locale. L'obiettivo dell'amministrazione è quello di poter migliorare il servizio ai cittadini, evitando loro spostamenti onerosi e lunghe file di attesa. Al via anche del piccolo comune di Gioi, nel Cilento, le attività del centro vaccinale, lo reso noto l'amministrazione spiegando che il punto è operativo presso il South. Anche in questo caso l'allestimento del centro è stato reso possibile anche grazie al lavoro sinergico di medici, infermieri, personale amministrativo e protezione civile che stanno operando per rendere un essenziale servizio a tutto il territorio. Inaugurata nei giorni scorsi in località Capodifiume a Capaccio Pestum la quinta casa dell'acqua sul territorio comunale. Il taglio del nastro alla presenza del primo cittadino, Franco Alfieri, si è tenuto nel rispetto delle normative anticontaggio. C'è anche il comune di Roscigno, tra quelli che potranno soffruire delle risorse messe a disposizione per i comuni fino a 5.000 abitanti dal Dipartimento della Funzione Pubblica nell'ambito del Programmo Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020. Il progetto ha l'obiettivo di finanziare gli interventi rivolti a promuovere la modernizzazione del sistema amministrativo con riferimento agli aspetti gestionali e organizzativi di semplificazione e digitalizzazione dei processi e dei servizi verso i cittadini e le imprese. Termina qui questa puntata di Voci dal Cilento che come sempre potete ritrovare sul nostro sito vocidalcilento.it insieme a tutte le nostre puntate, tutte le interviste, tanti articoli che riguardano notizie dal Cilento e da tutto il resto della provincia di Salerno. Vi invito a seguirci anche sui social e a iscrivervi al nostro canale YouTube. Grazie per l'attenzione, a presto!